Buongiorno, oggi affronteremo l'argomento della chirurgia mininvasiva, intesa come chirurgia soft per cuori stanchi. Diciamo che quando è possibile le nuove tecnologie ci consentono di effettuare interventi anche molto importanti senza dover aprire completamente il torace del paziente. Tante volte la cardiocirurgia spaventa proprio per la necessità di effettuare un lungo taglio sulla superficie anteriore del torace. Adesso siamo in grado di effettuare anche interventi su due valvole, interventi di bypass, cioè interventi che prima era impossibile effettuare senza aprire il torace, con piccoli accessi attraverso la parete passando nello spazio tra le coste. Questo consente di avere un risultato estetico sicuramente favorevole, nel senso che la malattia viene completamente neutralizzata. Il paziente, spesso anche una giovane donna, non si vedrà per tutta la vita una cicatrice sullo sterno, ma non vedrà assolutamente nulla perché la piccola cicatrice verrà nascosta dal seno, verrà nascosta in posizioni che non interferiscono proprio sulla sua estetica. Grazie. Grazie.